Saranno alti dai 7 ai 10 metri i pannelli fonoassorbenti previsti per limitare il rumore acustico provocato dal passaggio del treno lungo tutto il tratto ferroviario della costa adriatica. E' il tema affrontato questa mattina dal sindaco Seri in quanto il progetto proposto da Rete Ferroviaria Italiana e Ministero dei Trasporti interesserà da vicino anche il tratto di Fano. Esprimo grande preoccupazione, espresso il primo cittadino in conferenza stampa, il progetto di RFI relativo alle barriere sarebbe un danno per la città francamente inaccettabile in quanto la ferrovia corre sotto le mura storiche e un'eventuale murata le nasconderebbe alla vista facendo inoltre riverberare i rumori dentro la città soprastante. Il sindaco di Fano, unito alle preoccupazioni anche degli altri sindaci di Falconara, Ancona, Lido di Fermo e Porto San Giorgio, ha inviato una lettera a Ferrovie dello Stato chiedendo la disponibilità per un incontro, per discutere le soluzioni più idonee in rispetto della legge ma anche per tutelare l'immagine e gli interessi culturali e turistici della città. È inaccettabile una proposta del genere perché avrebbe un impatto pensate soltanto alle mura che ci sono al centro storico dalla parte di Sassonia. Quindi ho già inviato una lettera a RFI per rivedere il progetto ma soprattutto al di là dei ragionamenti che ogni singolo sindaco o comune possa fare, va fatto un ragionamento insieme. Ho già parlato anche con i sindaci di Ancona, di Falconara dove organizzeremo un incontro tutti insieme per porre la questione tutti insieme per far rivedere questo progetto che andrebbe inevitabilmente a ledere la bella immagine della città, delle città della costa adriatica.